Finalmente anche al sud si vede qualcosa di così interessante a livello militare, dare onore a Ciccarone Giovanni, il proprietario di questa tenuta, di questo shotting range qui a Ponte Cagnano, Faiano, in località vicino a Giffoni, Valle Piane. È una manifestazione che secondo me rende onore alla provincia di Salerno anche perché come storia ne ha tanta da presentare Salerno, lo sbarco abbiamo avuto e oggi penso che non è altro che un avvicinamento a far conoscere a tanta gente che cos'è la storia dell'Italia in merito alle armi, a questa bella manifestazione dove hanno confluito un po' tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio. Non ho altro da aggiungere, io sono a disposizione come armeria per dimostrarvi ciò che è l'arma, non è solo una parte offensiva che può essere verso le persone ma una storia che conoscere l'arma è una cosa importante, molto bella anche ai bambini, ai giovani e tant'altro che si avvicineranno a questo sport, a questa cerimonia che ha dato la possibilità di conoscere ciò che è l'arma per senso della parola. Grazie a tutti e buona giornata.